Mi raccomando raga prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare un bellissimo like, andate qua sotto, lasciate like, cerchiamo di arrivare a superare i 1000 like per questo video, mi date veramente una grandissima mano se lasciate like qua sotto, ci vuole un singolo secondo, andate qua sotto, lasciate like e ve ne sarei veramente molto molto grato. Ed inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video e le prossime live. Detto questo, vai con il video! Bella a tutti ragazzi, io sono Adri e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online. Come sapete ogni giovedì vi porto il video sui nuovi aggiornamenti per quanto riguarda gli sconti settimanali, l'auto sul podio e tutte queste cose inerenti alle nuove offerte su GTA Online per quanto riguarda la settimana corrente. Ebbene sì, questa settimana come vedete l'auto sul podio è la Verlierer, o se la vogliamo leggere in tedesco Fealira, cioè che sarebbe perdente, tradotto letteralmente. Non è che sia una grandissima auto, però questa settimana insomma abbiamo questa sul podio, quindi la potete vincere. Per cui buona fortuna a tutti nel girare la ruota, ma prima di andare a girare noi stessi la ruota, perché io posso girare la ruota, vediamo se riesco a vincerla una volta tanto un'auto. Ovviamente io vinco sempre quelle scarse. Andiamo a vedere subito le offerte per questa settimana. Partiamo da Legendary Motorsport, vediamo subito. Abbiamo la Pegassi Zurrusso in offerta. Una buona offerta questa, quasi metà prezzo, credo sia il 40%. Poi abbiamo la Devastate, raga, questa è veramente ottima, soprattutto per le gare, è un'auto molto veloce, molto buona. Io mi ci trovo molto bene con la Devastate, costa 700.000 dollari in meno rispetto al prezzo pieno e sinceramente io ci faccio un pensiero a questa. Vediamo se in questa settimana me la compro, molto probabilmente sì, perché è veramente un'ottima auto, soprattutto per le gare, ripeto. Quindi se vi interessa un'auto super, anche così per girare in freemode, vi consiglio la Devastate poi per un milione. Secondo me è veramente un ottimo prezzo. E per quanto riguarda Legendary Motorsport, questo è tutto. In realtà niente di che, c'è alla fine due macchine, di cui una, vabbè, molto buona, mi piace parecchio. L'altra non l'ho mai provata, quindi non lo so. Meglio di niente. Poi vediamo subito sul Warstock. Sul Warstock abbiamo l'Avenger in offerta. Quindi per chi non avesse l'Avenger, se vi serve l'Avenger, potete comprarlo. Ripeto, l'Avenger sostanzialmente è la stessa cosa del centro operativo mobile, solo che anziché essere un veicolo da terra, è un velivolo. Quindi vi spostate in volo. Però di base alle stesse funzioni del centro operativo mobile. Quindi se non avete il centro operativo mobile, vi consiglio tra i due di prendere l'Avenger, che è molto più comodo, secondo me, rispetto al centro operativo mobile. Però alla fine entrambi fanno la stessa cosa, quindi vedete voi se preferite questo qui, oppure se preferite il centro operativo mobile, insomma. Quindi ripeto, qua comunque uno sconto sostanziale di 1.400.000 dollari circa. Quindi anche qui non è in metà prezzo proprio. Poi vediamo che altro abbiamo in offerta. Abbiamo l'Acula, che passa 1.600.000 da 2.800.000. Il Laser, che passa da 6.500.000 a 3.900.000. Quindi anche questa è una buona offerta per chi di voi volesse acquistare il Laser. Veramente ottimo velivolo. E poi abbiamo l'FH1 Hunter, anche questo in offerta, rispettivamente sia sul prezzo standard, sia sul prezzo scontato. Anche qui avete circa un 40%, vado così proprio a memoria, cioè non so se è il 40% o il 30%, però credo sia il 40%. Poi vediamo che altro abbiamo. Il Savage. Ok, quindi anche quest'altro elicottero. Hanno messo un sacco di elicotteri in offerta questa settimana, a quanto pare. Passa 1.100.000 da 1.900.000. Finalmente è acquistabile la Grotti Brioso 300 di Caio Perico. L'hanno finalmente resa disponibile, quindi se la volete acquistare la potete acquistare adesso. Ma parliamo ora di roba seria. A livello di business, cosa hanno messo? Eh, a livello di business, io l'avevo previsto questo per chi mi ha seguito ieri in live. Vi ricordo a tal proposito che sono in live ogni giorno a partire dalle ore 18 qui su YouTube. Quindi mi raccomando, se ancora non avete visto le live o volete partecipare per giocare anche con me e fare magari dei colpi a Caio Perico insieme, venite alle 18 in live, vi aspetto veramente in molti. E come appunto vi avevo detto ieri in live, secondo me questa settimana mettevano in offerta l'Hangar. Perché era un bel po' che non era in offerta, hanno già messo in offerta praticamente tutto il resto, mancava solo l'Hangar prevalentemente. Ebbene sì, ecco l'Hangar in offerta. E per quanto riguarda l'Hangar è in offerta del 60%, quindi più di metà prezzo. Infatti come vedete costa solo 480.000 dollari questo qua. Se vi volete prendere un Hangar, diciamo anche da un altro punto di vista funzionale, vi consiglio di prendere un Hangar qui a Forza Ancudo. Semplicemente perché con l'Hangar a Forza Ancudo potete entrare all'interno di Forza Ancudo senza avere le stelle di polizia, che è veramente molto molto comodo. Per quanto riguarda l'Hangar in realtà non è proprio un grandissimo business. Diciamo che potete fare bei soldini, però dovete giocare con parecchi amici. Perché se giocate in singolo è più difficile perché recuperate una cassa per volta e diventa rispetto al tempo che ci andate ad impiegare veramente molto monotono. E soprattutto non è molto proficuo. Infatti fate tipo 10.000 a cassa e considerate che comunque 10 minutini li sprecate per una cassa. Sinceramente a questo punto, ripeto, fatevi il colpo a Caglioperico. Gli stessi stabilimenti, il bunker sono molto più proficui secondo me rispetto a questo. Oppure il magazzino delle casse del CEO. Ciò non toglie che comunque l'Hangar è un ottimo acquisto da fare, soprattutto adesso che è in offerta al 60%. Quindi se non ce l'avete vi consiglio veramente di acquistarlo. Se non avete tanti soldi e non potete acquistare questi qua, va bene anche questo qui da 480.000 dollari all'aeroporto di Los Santos. Più che altro perché anche questo poi lo potete collegare nel vostro nightclub. E vi ricordo che tramite il nightclub potete guadagnare un sacco di soldi senza fare niente. Totalmente passivo. L'Hangar rientra in uno dei business che si possono collegare al nightclub. Quindi vi consiglio veramente in ottica nightclub di acquistarlo. E di più poi vi darà. Assieme all'Hangar infatti riceverete anche un aereo gratis che potrete usare sempre. Per cui alla fine, vabbè, in realtà acquistate l'Hangar. Acquistate la possibilità di guadagnare tramite il nightclub. Se ce lo avete acquistate un aereo, tutto incluso in questo prezzo, di 480.000 dollari. Per cui ripeto, approfittatene ora che anziché un milione e due, che è veramente tantissimo, costa 480.000 dollari. Tra l'altro raga, per chi di voi si fosse perso la mia situazione soldi, sono arrivato quasi a 82 milioni. Anzi, praticamente ci sono se deposito i soldi che ho in contanti. E rango 178. Allora, intanto noi giriamo la ruota. Vediamo subito. Lasciamo le dita, vediamo se esce l'auto. Tante volte, se mi dice fortuna. Vediamo un po', potrebbe darsi. E invece 25.000 fish. Vabbè, io sono più contento delle 25.000 fish. Ottimo raga, veramente ottimo. E vi ricordo, oltre a girare la ruota ogni giorno, di venire anche a ritirare il vostro bonus qui di 1000 fish. Che comunque sono sempre soldi in più. Visto che questa settimana, ovviamente in tema Hangar, giustamente la Rockstar ha deciso di mettere con soldi RP doppi le modalità competizioni scorte al volo. Sono tutte con soldi RP doppi appunto. Per cui, se volete guadagnare dei soldi, soprattutto voi che siete agli inizi, che non avete altri modi di guadagnare soldi, vi consiglio di fare queste attività con soldi RP doppi. Perché, oltre a farvi appunto parecchi soldi, riuscite a fare anche parecchi RP. E per uno che ha rango basso è veramente ottimo, perché vi fate anche tanto rango. Ed in più aumentate anche le vostre skill di volo del personaggio. Ed eccoci qua raga. Forza Zancudo. Come vedete, tra poco entreremo all'interno di Forza Zancudo. Non riceveremo le stelle, perché se avete acquistato l'Hangar non vi daranno problemi. Quindi potete entrare tranquillamente qui nell'area di Forza Zancudo. E vi faccio subito vedere com'è l'Hangar qui a Forza Zancudo. Per quanto riguarda l'Hangar sarebbe questo, che tra l'altro sarebbe anche l'Hangar più caro. In realtà, all'interno dell'Hangar non cambia niente. Tutti gli Hangar sono tutti uguali. Quindi anche se acquistate quello da 480.000 dollari in aeroporto allo Santos, è uguale, identico a questo qui. Eccoci qua. Infatti, come vedete, il mio è molto grezzo, perché più che altro non ho modificato niente. Ho solo l'aereo gratis di cui vi parlavo prima, che vi danno insieme appunto al vostro Hangar. E per quanto riguarda tutte le operazioni che potete fare tramite il vostro Hangar, per quanto riguarda il guadagnare soldi, cioè il recupero e la vendita delle casse, lo fate da qua su, dovete salire qua su. Io lo ripeto sempre, perché magari ci sono delle persone nuove che mi seguono, che non sanno come funziona. E praticamente dovete accedere a questo computer qui. Per farlo dovete essere in una sessione pubblica. Attualmente io sono in una sessione solo a inviti, quindi andate in una sessione pubblica. Se non sapete come fare una sessione pubblica online da soli, quindi per stare semplicemente voi in una sessione pubblica online, vi lascio il link del video qua sotto in descrizione, cosa che vi consiglio, perché altrimenti se fate le missioni dove ci sono altri player, vi rompono le scatole e andate a perdere veramente un sacco di tempo, oltre che soldi e nervi. Inoltre per quanto riguarda le vendite dell'Hangar, anche queste sono con soldi RP doppi, quindi questa settimana guadagnerete il doppio sulle vendite dell'Hangar. Per quanto riguarda me, comunque tutti i soldi sono stati fatti normalmente, trovate tutti i video sul canale dove vi spiego come faccio a fare soldi, senza glitch, senza trucchi o altre cose. Quindi mi raccomando, se volete vedere meglio nel dettaglio come si fanno a fare soldi, ho fatto un video su come fare soldi nel 2021, vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione, insieme a tanti altri metodi per fare soldi in GTA Online normalmente, che vi consiglio di andare a vedere. Per quanto riguarda il Doctis, alla fine come vedete ho fatto veramente bene a controllare, perché effettivamente è raro che mettono qualcosa in offerta, però questa settimana come vedete abbiamo in offerta lo Yacht. Raga, lo Yacht è veramente molto bello, ma alla fine non serve a niente, è giusto una cosa che avete lì, la comprate, sinceramente io l'ho comprato giusto quando era in offerta e alla fine non l'ho più di tanto utilizzato, è una cosa che avete lì e basta diciamo. Penso sia solo una cosa a livello di completezza dell'account. Quindi lo Yacht è in offerta del 50%, come vedete se acquistate per esempio il modello Aquarius, visto che io ho il modello Pisces, questo qui in medio, quindi per esempio il modello Aquarius, tecnicamente per quanto riguarda voi, se non mi ricordo male dovrebbe costare 4 milioni, perché normalmente questo dovrebbe costare 8 milioni, per cui a metà prezzo. Quindi se vi volete acquistare uno Yacht, questa settimana vi consiglio di acquistarlo, perché è in offerta, sinceramente se lo acquistate a prezzo pieno, secondo me è veramente un pessimo affare, più che altro perché lo Yacht è inutile. Inoltre abbiamo soldi RPW sempre sulle gare, per quanto riguarda le gare, sulle gare acquatiche e sulle gare aeree, quindi in questo caso come vedete questa è una gara acquatica, mentre questa qui è una gara aerea, come vedete anche questa con soldi RPW, per cui sia le gare aeree che le gare acquatiche con soldi RPW, ed inoltre anche tutte le missioni dello Yacht avranno soldi RPW, quindi questa settimana abbiamo veramente un sacco di attività con soldi RPW, però sinceramente tra tutte queste attività vi consiglio la modalità competizione, che secondo me vi fa guadagnare molti più soldi, e soprattutto ci saranno più giocatori che giocheranno a quelle attività. Detto questo raga, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, cerchiamo di arrivare e superare i mille like per questo video, e mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo nel prossimo video, e soprattutto ci vediamo oggi alle 18 in live, mi raccomando non mancate. Detto questo da Dio è tutto, bella!